La festa non è ancora finita, ma la dirigenza della nuova Sondrio Calcio è già al lavoro per la prossima stagione. D'altronde il presidente Michele Rigamonti ha già detto di puntare a un campionato da protagonisti in eccellenza con lo zoccolo duro che ha portato alla vittoria del Girone B di promozione. La squadra, comunque, gran parte della squadra dovrebbe essere comunque confermata, perché ricordo che noi abbiamo cambiato 18 elementi quest'anno, dunque l'anno prossimo sarà un pochino più facile in questo senso, perché alcuni ragazzi si trovano già, dunque ci saranno degli innesti sicuramente. E qui faccio un auspicio, chiedo l'aiuto un po' di tutti, chiaramente degli sponsor, perché comunque l'anno prossimo sarà un anno più dispendioso, ma anche delle amministrazioni, perché comunque il nostro centro sportivo ha bisogno veramente di interventi importanti. Se vogliamo veramente crescere in maniera importante per arrivare a questo traguardo che sarà nell'Olimpia di 2026 con la squadra in una campionata importante e in un centro sportivo importante, dobbiamo lavorare tutti insieme e poi sono sicuro che Sondrio, veramente, la squadra di Sondrio farà parlare non solo a Sondrio nella provincia, ma anche fuori. Potrebbe restare anche mister Fabio Fraschetti, come ha annunciato lo stesso tecnico, già pochi minuti dopo il fischio finale della gara di domenica. È l'obiettivo laddove ci sarà la possibilità di continuare questo rapporto con questa società e di continuare ad aumentare la gente che segue il Sondrio.